Stiamo assistendo a colleghi che all'età di 45-50 anni, disperati, preferiscono licenziarsi e quindi mettersi in gioco e preferiscono andare a lavorare nella sanità privata. 70 licenziamenti tra gli infermieri dal 1 gennaio, decine di richieste di mobilità interna e emergenza tra le corsie dell'azienda ospedaliera di Padova, dove non si riescono neppure più a sostituire le circa 90 donne in maternità. Una situazione che di giorno in giorno diventa più pesante è la denuncia di Luigino Zuin, segretario provinciale della UIL Funzione Pubblica. Gli infermieri saltano i riposi, sono chiamati quando sono a casa, è un aumento degli straordinari, un aumento delle malattie. Ci chiediamo se questa situazione non poteva essere affrontata prima. Le maggiori criticità nei reparti che sono il cuore pulsante dell'ospedale. Attualmente alcune reanimazioni, il pronto soccorso e le chirurgie, dove abbiamo maggiore richiesta di trasferimento, è una legittima difesa rispetto a un tracollo. Inutili sinori i tentativi di mediazione, i sindacati sono pronti allo scontro con i vertici aziendali. Un out-out, o il 27 di questo mese ci danno delle soluzioni percorribili, fattibili, saremo costretti a ritornarne nella ventina, a proclamare lo stato di agitazione. Pronti allo sciopero? Prontissimi allo sciopero. Pronti allo sciopero? Grazie a tutti.